Dopo tante ore di macchina, tanta confusione nella mia vita da giovedì e 200 tamponi, che poi in realtà non sono realmente 200, ma ho detto un numero molto grande per esagerare, sono tornato a casa. Per i meno attenti oggi è la festa della mamma, quindi per festeggiare questa giornata molto bella e inviatemi le foto dei regali più brutti che avete fatto a vostra madre nella vostra vita per questa festa. Ogni volta che saliamo su questo ascensore mettiamo in mano la nostra vita ad una corda, ci fidiamo troppo di questi aggeggi tecnologici secondo me. Hai qualcosa per me? Hai del cibo per me? Vedo bene. No vabbè ma quanto sei carino. Perché mi parli così? Ti sembra uno stupido che non capisce che non hai tu le mani? Ma quanto sei bello eh? Quanto sei bello? Guarda che sei tu lo stupido che mi fa vivere e mangiare per sempre gratis a casa sua. Dai vieni da papà. Dai vieni qui. Ma cosa è che tu non sei mio padre e noi non ci somigliamo per niente. Fai il bravo cane che tra poco ti porto fuori. Ecco bravo fai il tuo lavoro stupido. Io vado di là ad annusarmi le natiche a cercare di mordermi la corda. Mi ama proprio sto cane guarda. Hai qualcosa per me? Hai del cibo per me? Vedo bene. No vabbè ma quanto sei carino. Perché mi parli così? Ti sembra uno stupido che non capisce che non hai tu le mani? Ma quanto sei bello eh? Quanto sei bello? Guarda che sei tu lo stupido che mi fa vivere e mangiare per sempre gra... Ma quanto sei bello?